E bella a tutti ragazzi, sono Giacomo e oggi vi mostrerò come uscire dalla mappa Erosion. Questa mappa è ambientata in Pompei, secondo me, dopo non sono sicuro. Per uscire da questa mappa bisognerà avere degli approvvigionamenti e posizionarli più o meno in questo punto. Uno dovrà rimanere orizzontale, mentre l'altro dovrà andare in verticale, in modo che voi saldiate su questo muretto e dopo uscirete e potrete esplorare la mappa. Adesso vi farò vedere come fare giusto. Vedete, io in questo punto non ci potevo riuscire. C'è da posizionare un'altra cassa che vada dritta e così voi potrete salire sul muretto ed uscire dalla mappa. E nient'altro, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mettete mi piace ed iscrivetevi al canale. Non ci potevo riuscire. Se è così, mettete mi piace ed iscrivetevi al canale. Se è così, mettete mi piace ed iscrivetevi al canale. Se è così, mettete mi piace ed iscrivetevi al canale. Se è così, mettete mi piace ed iscrivetevi al canale.